Sono cominciati questa mattina gli interventi di manutenzione e bonifica del complesso cimiteriale di Barra, che ospita i deceduti per colera delle diverse epidemie avvenute nella zona nell'arco del XIX secolo. Grazie alla segnalazione del Comitato Civico dei Cittadini di Barra, l'amministrazione comunale è intervenuta prima con azioni finalizzate a reprimere le attività di sversamento abusivo grazie all'unità operativa ambientale della Polizia Municipale e poi tramite Asia con la rimozione dei rifiuti depositati all'esterno del muro di Cinta e con la ricostruzione di una parte dello stesso muro che era stato danneggiato proprio per permettere gli sversamenti illeciti. Si inizia il recupero di una delle centinaia di azioni che cerchiamo di promuovere, siamo a Barra, il luogo del cimitero dei Colerosi in cui i poveri venivano sepolti anonimamente senza dignità. Questo per una bonifica che fu deliberata nel 2013 dal Vice Sindaco Sodano e da me per rinvenire le risorse utili ad una bonifica generale, ad un luogo della memoria ma magari anche fruibile ai cittadini perché si sappia che questo luogo sia recuperato e che vi sia un monito che mai più sia questo il destino delle persone. Oggi, grazie ad uno stanziamento del servizio cimiteri, sono iniziati i lavori di bonifica di serbo e pulizia dell'area che dureranno alcune settimane. L'obiettivo dell'amministrazione comunale e dei cittadini che hanno sollecitato l'intervento è di mettere l'area in sicurezza per renderla da subito fruibile al pubblico e contestualmente avviare una progettazione adeguata al valore storico del sito per farne un luogo della memoria collettiva.